Grazie, Presidente. Ieri a Rimini, al Congresso nazionale del SAP, sindacato autonomo di polizia, erano presenti tre dei quattro poliziotti condannati per la morte di Federico Aldrovandi, ai quali è stata riservata una standing ovation. Il Movimento 5 Stelle rispetta gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, che lavorano con coscienza e onestà, ma non accetta assolutamente applausi vergognosi come quelli occorsi ieri al SAP. I sindacati di polizia devono garantire i diritti dei poliziotti, ma mai oltraggiare il senso d'umanità e di giustizia. A tal proposito, vorrei segnalare che, in data 6 febbraio 2014, ho presentato al Ministro degli Interni un accesso agli atti che richiedeva le motivazioni delle commissioni disciplinari della Polizia di Stato competenti nel giudicare quattro agenti condannati per l'omicidio di Federico. Ad oggi non ho mai ricevuto la ricevuta di ritorno dell'invio da me effettuato, né tantomeno una risposta dal Ministero. Chiedo che la Presidenza si faccia carico di capire i motivi di questo ritardo nella risposta e alla mancata consegna delle ricevute di ritorno. Grazie. La ringrazio, la collega Dieni.